Alex Bertin, una serata forse troppo brutta per essere vera ma bisogna guardare in faccia la realtà il Feltre ha vinto 5-1 per cui cos'è successo questa sera? Buonasera a tutti, siamo partiti male, abbiamo fatto pochi gol, loro sono stati più cinici e ovviamente perdere in casa fa male, ricordiamo che la prima partita al minuto delle 5 quindi abbiamo tutto il tempo per Banale dire che si sono riviste un po' le pecche della stagione, quindi magari un powerplay troppo sterile troppi errori sotto porta, magari anche banali, quando invece gli avversari davano sempre l'impressione di poter colpire davanti a perla Bisogna essere severi in questi momenti, è vero che le nostre difficoltà vengono accentuate in questi momenti quindi purtroppo è vero, ripeto c'è ancora tempo Chiaramente quello che succede nello spogliatoio è sacro, però cosa vi siete detti in questo momento? Chiaramente la testa sarà a martedì sera adesso? La partita è già finita, adesso martedì sarà una nuova partita consapevole del fatto di cosa può fare il Feltre e soprattutto consapevole di quello che noi siamo in grado di fare Grazie mille! Grazie.